Iniziava spesso gli esperimenti con le carte. E questo perché il numero, il colore, il disegno della carta hanno un significato facilmente comprensibile. Devo imprendere da sopra alla sopra. Quante le vuole? Allora la seconda carta dovrebbe essere 10. Guarda, guarda. Tira la forica e la vediamo tutti. Cambiava completamente una carta scelta dal soggetto e tenuta in mano dallo stesso. Carl Jung, il grande psicologo analitico, e Wolfgang Pauli, grande fisico quantistico premio Nobel, unirono le loro competenze in maniera interdisciplinare per cercare di spiegare il mistero delle sincronicità. Sincronicità sono degli eventi che avvengono in maniera sincronica tra uno stato della mente, uno stato d'animo, della coscienza e un evento esterno. Vedete quindi, la carta si forma nel momento che lui la individua. Ci fa pensare che dietro si cieli una realtà misteriosa che ci vuole insegnare sulla vera natura dell'universo e che, a quanto sembra, proprio per l'aspetto sincronico, si comporta esattamente come le particelle quantistiche.